Guadagna di più un giudice o un avvocato? Due premesse fondamentali. Esistono giudici e giudici e soprattutto esistono avvocati ed avvocati. Non tutti i giudici guadagnano la stessa cifra e nemmeno tutti gli avvocati guadagnano la stessa cifra. Per quanto riguarda gli avvocati poi, e qui siamo alla seconda premessa, essendo dei liberi professionisti sono soggetti a tutte le difficoltà della libera professione e il guadagno di fatto non è mai lineare. Oggi è zero, domani e dieci e così via. E in ogni caso occorre far fronte a tutte le spese necessarie a sostenere lo studio e sono tante. In generale comunque un avvocato può guadagnare molto ma molto di più di un magistrato, però nella pratica sono veramente pochi quelli che davvero superano in un anno i detti massimi degli stipendi dei magistrati. Che stè?